Sarebbe ritrovati con l'informazione del Tg Blue. In apertura continuiamo a parlare del maltempo perché il freddo polare in Capitanata non si plache. Ad essere maggiormente colpiti in questo periodo sono coloro che non hanno un posto in cui trovare riparo. Di loro si sta occupando, come del resto avviene durante tutto l'anno, la Caritas e le parrocchie della città. Ma in questo momento di emergenza c'è bisogno dell'aiuto di tutti i foggiani. In Capitanata continua a cadere la neve. La situazione più grave a Foggia riguarda i senza fissa di Mora per i quali si sono mobilitati da giorni i fratelli della stazione, la Caritas e le parrocchie insieme alla Croce Rossa. Circa 100 ai posti letto attualmente disponibili, 50 alla Caritas Diocesana, 15 nella parrocchia di Gesù e Maria, 20 a Sant'Alfonso, 8 presso il Santissimo Salvatore, 5 nella parrocchia di San Michele e 2 nella Basilica Cattedrale. A parte le richieste di aiuto da parte di chi si rivolge durante il giorno direttamente alla Caritas Diocesana, ogni sera il camper del PIS, il pronto intervento sociale finanziato dal Comune di Foggia, fa il giro della città tra le 19 e le 24 per intervenire in caso di eventuali richieste di soccorso. Dalla Caritas fanno sapere che al momento ci sono tre posti ancora liberi per uomo, uno per donne. In previsione di un peggioramento della situazione si stanno allestendo altri 15-20 posti letto presso la parrocchia Santo Spirito e anche presso la parrocchia di Sant'Antonio che ha messo a disposizione dei locali al fine di approntare un altro eventuale dormitorio d'emergenza. Dalla Caritas fanno sapere che servono coperte, lenzuola, cuscini, materassi, vestiti invernali, reti o brande in buono stato. È possibile consegnarli tutti i giorni e anche domeniche festivi dalle 7.30 alle 23 presso la casa di accoglienza Caritas Santa Maria del Conventino in via orientale. E a causa del maltempo in alcuni comuni dei Monti Damiani del Gargano le scuole saranno chiuse anche domani, affoggio invece tutte scuole aperte anche se non mancano i disagi. Il calore pentino delle temperature in tutta la Capitanate e le forti nevicate di questi giorni hanno causato grandi disagi non solo per la viabilità e l'agricoltura sotto la morsa del gelo, ma anche per gli istituti scolastici. Infatti proprio la situazione degli edifici scolastici in tutta la provincia è abbastanza critica. Il punto dolente è la situazione degli impianti di riscaldamento. Sin dai primi fiocchi di neve alcuni comuni si sono mobilitati per l'accensione straordinaria dei termosifoni rimasti spenti per le festività natalizie. Di appartenenza comunale sono gli istituti delle scuole materne, elementari e medie. Quasi tutti i sindaci di Capitanata hanno avviato la procedura anticipata dell'accensione degli impianti di riscaldamento per poter accogliere gli studenti al rientro dei giorni di festa, ma in alcuni paesi, soprattutto quelli che nei giorni scorsi sono stati interessati da fortissime nevicate, le scuole non hanno riaperto facendo slettare così il rientro in aula. Tranne Orta Nuova che nonostante non fosse paese soggetto di forti nevicate, il primo cittadino Dino Tarantino ha deciso di non far riaprire gli istituti di competenza comunale, appunto il 9 gennaio come da calendario. Scelta molto discussa perché non procedere con l'accensione straordinaria, medesima situazione molto discussa soprattutto sui social riguarda gli istituti superiori di competenza della provincia. Il settore tecnico ha comunicato l'accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento dal giorno 5 gennaio, ma al rientro in aula alcuni istituti hanno riscontrato dei disagi. Nel caso dell'istituto Altamura di Foggia con due tubature rotte e che quindi non è riuscito a garantire l'apertura o l'istituto da Vinci, quale il risultato nullo e il tentativo di accensione anticipata, perché non si è riuscita ad assicurare un ambiente idoneo per lavorare. A questi disagi si aggiungono anche l'assenza di molti insegnanti, i quali dovendo giungere da paese gravi disagi di viabilità, non sono riusciti a rientrare entro il giorno stabilito. E sull'emergenza a maltempo è intervenuto anche il direttore sanitario, il direttore generale della ASL Vito Piazzolla, che ha ribadito che la ASL ha risposto ebbene alle emergenze. Il sistema ha fatto fronte all'emergenza a maltempo in modo appropriato e attraverso procedure già consolidate. Questo nonostante il breve tempo a disposizione per predisporre un piano di sicurezza, il contestuale ponte dell'epifania e le criticità legate alla complessità del territorio. Così il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Capitanata Vito Piazzolla, che a partire dagli accordi con la prefettura con cui ha interloquito sin da subito, è stato in contatto con i sindaci e i direttori dei distretti sociosanitari di presidio per garantire il massimo della sicurezza ai cittadini nelle ore di forte maltempo. La situazione è stata monitorata in tempo reale. Il forte freddo ha causato il malfunzionamento di alcuni impianti di condizionamento e riscaldamento, ma gli operatori dell'area tecnica sono immediatamente intervenuti per controllare la tenuta degli impianti. Per quanto attiene alla rete di emergenza 118, tutte le ambulanze sono state fornite di catene. Nonostante l'impraticabilità delle strade e la conseguente impossibilità in qualche caso di alcuni medici a raggiungere le postazioni di lavoro nei comuni più isolati del Gargano e dei Monti Dauni, non si sono verificate situazioni di criticità. Tutti gli interventi richiesti dalla centrale operativa sono stati effettuati. Per quanto riguarda i centri di alisi, ricorda ancora a Piazzolla, tutti i pazienti hanno effettuato i trattamenti. Il loro trasporto verso i centri è stato assicurato con la collaborazione dei comuni che hanno provveduto a ripristinare la viabilità e con l'ausilio della protezione civile per i residenti in contrade isolate. L'ondata di maltempo non sta dando tregua e per questo l'ASL ha ribadito lo stato di allerta ai direttori delle strutture che operano sul territorio, in particolare su Monti Dauni e Gargano, dove notoriamente si registrano le maggiori difficoltà. Andiamo a Sansevero dove continuano le indagini dei carabinieri e dei vigili del comando provinciale di Foggia, i vigili del fuoco naturalmente sull'incendio scoppiato in due abitazioni in via Carli e che ha causato anche la morte di una persona di 42 anni. Ancora in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio scoppiato. Ieri mattina in un'abitazione in via Mario Carli a Sansevero e che ha causato la morte di una persona, un 42enne con problemi psichici. I carabinieri e i vigili del fuoco nel comando provinciale di Foggia stanno verificando le cause del rogo che hanno interessato due appartamenti, al quinto e al sesto piano dello stabile. A causa dell'incendio sarà necessario evacuare 12 famiglie. I residenti hanno trascorso la notte da parenti o amici e nelle prossime ore il comune dovrà decidere come assistere queste famiglie. Sul fronte delle indagini, come detto, le analisi degli esperti dei vigili del fuoco dovrebbero essere note nelle prossime ore. Da una prima ricostruzione si presume che le fiamme possono essere partite a una fonte di calore, magari un mozzicone di sigarette o un cortocircuito di un piccolo elettrodomestico. Un incendio che si è sviluppato in pochissimo tempo, anche per tutto il materiale che si trovava all'interno dell'abitazione, numerosi rifiuti di ogni genere, molto infiammabili e anche alcuni scooter. Torna la paura sulla Statale 16 nelle campagne di Cerignola a causa delle rapine armate. L'ennesima è venuta due sere fa quando un uomo solo alla guida della sua Mercedes è stato raggiunto e affiancato da una utilitaria con a bordo quattro persone incappucciate, armate di pistola e fucili. I malviventi hanno minacciato la vittima che è stata costretta a fermare l'auto. Il mezzo è stato anche speronato, poi i quattro hanno rubato l'auto all'imprenditore e sono fuggiti. Due invece le spaccate messe a segno ieri notte a Foggia, due esercizi commerciali. La prima è venuta intorno alle 3.40 quando i gnoti hanno utilizzato un Opel Astra come Ariete sfondando la vetrata e la porta d'ingresso della sala scommessa Better di piazza Aldomoro. Poi i ladri sono fuggiti, pensate, con una macchinetta per le scommesse online che conteneva solo 26 euro. Stessa dinamica utilizzata qualche minuto dopo al bar Green Park lungo la statale 16 sulla Foggia San Severo. Anche qui i ladri hanno sfondato le vetrate e portato via due slot machine e una macchinetta cambiamonete. Ancora da quantificare il bottino del corpo e per i carabinieri molto probabilmente si tratta della stessa banda. Adesso parliamo di libri e parliamo anche di mafia perché subito dopo la sigla ospite dell'altra campana, il nostro spazio di approfondimento curato da Alessandra Benvenuto, c'è Gianrico Carofiglio, ex magistrato e adesso scrittore. Allora vediamo insieme uno stralcio dell'altra campana. In questo suo libro si parla probabilmente per la prima volta di questo tema della mafia e gli domandiamo perché. Io ho fatto per tanti anni il pubblico ministero e mi sono occupato di criminalità organizzata. Quando ho cominciato a scrivere era una domanda ricorrente sul perché non raccontassi quelle storie. Addirittura i primi romanzi che ho scritto avevano come protagonista un avvocato e mi chiedevano perché avessi scelto un avvocato e non un pubblico ministero come personaggio e, di nuovo, perché non raccontassi le storie delle indagini e dei processi antimafia. La mia risposta era che non ero pronto, che in sé è una risposta anche banale, ma include un elemento significativo, cioè per raccontare certe storie, quasi tutte, ma alcune in particolare, è necessaria distanza. È necessario mettere una distanza fisica, cronologica e in qualche misura anche emotiva fra i fatti raccontati e chi li racconta. Io ho fatto questo lavoro tanti anni fa, tre anni fa ho dato le dimissioni dalla magistratura e credo che quello sia stato il momento, come posso dire, di distacco, per cui poi da quel momento ho cominciato a maturare l'idea di raccontare quei fatti. Questo romanzo, L'estate fredda, in effetti è il primo di quelli che ho scritto che racconta storie di indagini e di mafia, in gran parte ispirate a fatti realmente accaduti, in gran parte ispirate a fatti autobiografici ed è il risultato di quel distacco di cui dicevo, che poi in realtà non è un distacco ma una riappropriazione in forma narrativa di un'esperienza del passato. Andiamo di musica, andiamo al Giordano dove è stato portato in scena il primo concerto al Buio. Vi sembra un errore tecnico? No, non si tratta di uno sbaglio, ma semplicemente del primo esperimento in Capitanata di concerto al Buio che si basa su una semplice e magica formula, luce, buio, luce. L'iniziativa segna l'epilogo del viaggio che l'associazione Mira ha condotto in tandem con un partenariato amico, alla scoperta delle sensazioni che solo l'arte è capace di trasmettere e che a volte ignoriamo. Un itinerario che culmina al Teatro Giordano, il grazioso scrigno foggiano della cultura musicale in stile Liberty. Una morbida penombra accoglie in sala gli spettatori e una volta iniziato il concerto le luci calano lentamente fino a raggiungere il buio. Ascoltare il piano del maestro Franco De Feo porta a stravolgere l'uso comune dei sensi. Dove si trova il nostro punto di riferimento? Poco importa. Certamente da qualche parte di fronte a noi, ma quello che resta è la scoperta di altre sensazioni e la sperimentazione di nuove condizioni di ascolto, come ha spiegato Michele Corcio ai nostri microfoni. Ma non è stato pensato per far capire a chi ci vede che cosa significhi non vedere, assolutamente no. E vuole essere invece l'inizio di un percorso per scoprire insieme il piacere dell'ascolto senza le suggestioni visive. Quindi poter provare insieme ad ascoltare semplicemente e lasciare libero sfogo alla nostra immaginazione, lasciarci stimolare dal buio. Un buio che diventa esso stesso fonte di esperienze, di emozioni, di creatività. Quindi nulla a che vedere con la simulazione della cecità. Corcio e conosciamo il nuovo acquisto del Foggia, l'uruguaiano Faber. Presentato ufficialmente ieri con l'introduzione del DS di Bari e del presidente Fares, il primo acquisto in ordine temporale sul mercato invernale del Foggia, la centrocampista uruguaiano Gaston Faber per gli amici Totò. Ringrazio il Danubio per la possibilità che mi ha dato di entrare nel calcio che conta, ha attaccato Faber, aiutato da un interprete nella sua lingua madre. Qui ho una grande chance, il mio obiettivo è raggiungere la Serie B con il Foggia e darò tutto per ottenerla. Poi a proposito della posizione in campo, gioco abitualmente davanti alla difesa, ma posso ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Mi ritengo un centrocampista dei piedi buoni, ma ho capito che qui c'è bisogno di tanto temperamento. Sono stato accolto benissimo dai compagni, ho tanta voglia ed energia per questa avventura. Sono orgoglioso del paragone con Mascherano, l'ho fatto di Bari in apertura, ma non mi identifico solo con un calciatore, piuttosto in un mix tra Mascherano, Pirlo e Schweinsteiger. Sono molto emozionato, fisicamente sto bene, non vedo l'ora di dimostrare di meritare questa maglia. Difficile però che Faber, causa ai tempi burocratici necessari per il tesseramento, possa essere disponibile già dalla ripresa del campionato a Vibo Valencia. Bene, è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo la sigla, l'appuntamento con l'altra campana, lo spazio curato da Alessandra, benvenuto. E vi ricordo anche che i nostri servizi e le nostre notizie le potrete vedere sul nostro sito teleblu.tv oppure sulla pagina di YouTube Teleblu Foggia. Grazie di averci seguito, buon pomeriggio, a voi tutti. Grazie a tutti.